il video che vi porto oggi parla del coronavirus e di come igienizzare le mascherine per riusarle i consigli per poterle riutilizzare in sicurezza bene ora andiamo a vedere il video in questione Grazie a tutti Grazie a tutti In descrizione io vi lascio un altro link di un altro tutorial su come fare le mascherine in due minuti Io vi consiglio di rifarle e non di riutilizzarle è sempre consigliato rifarle da zero perché poi si rischia di andare a respirare aria non filtrata Bene se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale e accendere la campanella e se vi fa piacere a lasciare anche un commento Grazie a tutti